da Fognini con qualche errore di troppo ci crede il pubblico qui di Hamburgo e qui si salva Fabio Fognini qui bravissimo davvero e Fognini sbaglia ancora e per Philippa Kohlschreiber bravo di Kohlschreiber e il movimento di Fognini adesso a sbagliare anche qui Fognini bravo qui Fognini che però non può nulla su questo rovescio da sottorete di Philippa Kohlschreiber c'è il primo set point a disposizione del tenista tedesco rivediamo tenta il salvataggio disperato Fabio Fognini veramente lì ci voleva un miracolo ancora e qui l'ace di Kohlschreiber vedete qualche folata di vento Carlos Bernardes dice che la palla di Philippa Kohlschreiber è fuori e allora seconda di servizio per il tedesco pensava di aver già chiuso il discorso e invece no doppio fallo doppio fallo di Philippa Kohlschreiber Fabio Fognini grazie ai regali di Kohlschreiber in questo game altro errore in battuta per il tedesco qui ancora Philippa Kohlschreiber che sbaglia e arriva a sorpresa e Philippa Kohlschreiber può portarsi sulla 6-5 vediamo la chiusura con il dritto per Kohlschreiber punto però l'aveva conquistato sulla precedente rovescio lungo linea ed è di nuovo break Eitz Eitz numero 2 per Philippa Kohlschreiber lo tira fuori nel momento più importante allora palla 7 di nuovo per lui ne ha già avuta una nel decimo gioco poi ha subito il break però di set point Kohlschreiber a disposizione ne ha 3 è lunga la risposta di dritto mette da fare di nuovo di nuovo palla break siamo a quota 11 con questa per il tedesco ed è break break di Kohlschreiber ha mollato completamente Fabio Fognini è un e qui in Genova si tocca sbaglia ancora Fognini la risposta la risposta le e niente da fare e con un altro errore di Fognini arriva il punto del 6-2 per Goldschreiber dunque il tedesco approda ai quarti di finale 7-5-6-2 ai danni di Fognini che è durato mezzo set il primo per Goldschreiber adesso